riusciamo ad accendere a distanza, che ci parlano, che mettono la musica, quindi questa interazione continua fa sì che l'oggetto, l'oggetto in latino, quindi diciamo sovrapposto al soggetto, contro il soggetto, diventi tutt'uno con il soggetto e diventi cosa. Questa cosa è appunto un'interazione emotiva, emozionale con il design. Questo design appunto nella formula security by design è diventato qualcosa che allo stesso tempo dobbiamo esaltare con le forme d'arte interdisciplinari, ma nello stesso tempo dobbiamo proteggere, dobbiamo mettere al sicuro e dobbiamo far capire soprattutto ai ragazzi che quello che noi abbiamo tra le mani è una grandissima opportunità e senza precedenti, ma le forme d'arte che vengono fuori devono essere dei progetti seri legati sia alla libertà dell'artista, sia alla libertà delle persone, ma anche legate molto alla sicurezza delle persone, proprio perché abbiamo visto che con un click, anzi fatidico click, come io dico nel mio prossimo libro, un fatidico click in pratica riesce a mettere in ginocchio una nazione, per esempio per le infrastrutture critiche, energetiche, eccetera, eccetera. Quindi questa capacità delle cose di diventare interazione anche per il male deve essere in qualche modo portato nel tavolo di questa giornata. Nello stesso tempo richiamo il concetto sia di intelligenza artificiale, di digital innovation, di digital transformation che si sintetizzano in un unico termine che è digitale. Quando noi parliamo di digitale dobbiamo ricorrere sempre alla propria sua etimologia che è proprio digitus digitalem, che in realtà vuol dire una doppia cosa, cioè digitus dito, quindi fare qualcosa, richiama il concetto di arte, di tecnè che poi si è evoluta nel tempo, arsare, è una pianta sedativa, quindi allo stesso tempo può essere un'opportunità perché innescata dall'interazione uomo-macchina, come diceva Weiner per l'introduzione della cibernetica già nel 1948, ma può essere anche un sedativo proprio perché addormenta le menti dell'uomo e le addormenta in maniera tale che fa perdere anche la capacità cognitiva, come abbiamo visto nelle disgrazie purtroppo dei vari social, TikTok e quant'altro. Questo, diciamo, fa da scenario a questa giornata e digitale, e concludo, si è evoluto poi nel tempo attraverso il termine inglese digit, cioè cifra, cifrare, quindi digitale oggi oltre che essere appunto operatività con il dito, operatività, ma anche in qualche modo addormentare il cervello per capirci, e anche cercare di cifrare, di cifrare il mondo in una maniera più ottimale possibile. E su questo non ha solo l'artista il compito fondamentale di agire, ma è, ripeto e ribadisco, quello che sta prendendo Iboriarte come cammino, speriamo anche insieme, un progetto trasversale. Ed è un progetto gettato, come diceva Edgar, cioè ogni giorno abbiamo e ci troviamo di fronte a questa sfida digitale in cui l'uomo ancora fissa le ragioni iniziali.